E questa invece è una striscione che parla del movimento del Popolo per la Terra. E questa invece è una striscione che parla del movimento del Popolo per la Terra. E questa è una striscione che parla del movimento del Popolo per la Terra. E questa è una striscione che parla di meno. Les comune non è qui per i pochi, è qui per i ricchi.